Ciao ragazzi, sto all'Indoraptor 20.0 e benvenuti in un nuovo episodio di Indoraptor 20.0 Oggi siamo su Minecraft per fare i dropper Ed è anche la mia prima volta che faccio i dropper Quindi sono un abbo, aiuto Ok Sei stato teletrasportato presso Meno 14.50 81.00 18.50 Oh figo, è tipo miniera Ah, no, no, sono caduto No, ho visto, no, quella era questa È già difficile, mi sa ragazzi, aspettate un attimo Dove è là? È quella? No, non mi sa di no Aspettate che forse è Que... No, l'acqua non c'è dentro Al primo non ce la sto facendo Oppure riproviamo a centrare quello Aspettate No Aspetta Ho visto Ah no, perché uno shader, se sì E come allora se c'è l'acqua lì dentro Ho visto Ho visto le particelle No, però sono troppo veloce Potevano farmi un po' più lento, no? No, ragazzi Così Indo Ce la fa Ragazzi Riproviamo No Aspettate Eh ragazzi, non è semplice Per me è la prima volta Che lo faccio Non è colpa mia Proviamo di qua No Vabbè riproviamo Ragazzi Non ce la faccio Non ce la faccio Eh ma this way Ok, cosa dovrò fare ora Ok, ah di qua Ok Sei stato teletrasportato presso Meno 49.50 82.00 22.50 Ok ragazzi Questa cosa Non mi piace Non mi piace Ma come Non devo scendere da qua Ragazzi Ah è sempre un dropper Capisco Ma dov'è L'acqua No Voglio barare Ragazzi Dov'è l'acqua Io riprovo Buttarmi Ma non c'è Però Eccola L'ho vista Ok ragazzi L'ho vista Dovrebbe Essere Tipo Non so se da qua Si vede Però L'ho vista Eccola Ma impossibile Dai Vedete Vedete qui C'è un po' D'acqua Ragazzi No No non è qua Aspettate Che è di qua Aspetta un attimo Ragazzi Che Non so fare I dropper Aiuto Non so davvero Fare i dropper Ragazzi E Aiuto Ragazzi Io provo E Ah no È di là Non so niente Non lo vedo Non so niente Eccolo ragazzi È qua Proviamo con uno sprint Che ne dice Proviamo Oh No 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 Ragazzi E vabbè E lo sprint È andato male Ok Riproviamo Dov'è Acqua No Bravo Indo Complimenti Comunque Ragazzi Scusate Ma Il signor Indo Non sa fare Le cose Senza Cittare Quindi Almeno No Fatelo andare Qua Non nell'acqua Ma qua Perché se no Lui non ce la farà mai E il video Diventerà Noioso Oh Yeah Ce l'ho fatta Che bello Sì Lo so Sono bravi Sei stato Teletrasportato Presso Meno 72.50 67.00 26.50 Facilissimo Ragazzi Non era Acqua Ehm 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 This is a problem Aspettate Forse c'è da far parkour No No in realtà Mi sa Minimamente Di no Aspettate Che forse È proprio qui Dove non Lo vediamo Non lo vedo Ragazzi Sapete Sapete che vi dico Proprio Ragazzi Vedete È lì È quel buco Là Perché io Lo shader Se non si vede Bene Però C'è ragazzi Sì Come dovrei Arrivarci Posso rompere i blocchi Così 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 Magari Citto Sì Posso Bene Mi prendo un po' di calciastrusso No Grazie Ok Ce l'ho Il calciastrusso Ragazzi E Possiamo Cittare Yeah Senza Metterci In creative Perché Potrei Brr 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 No Volevo Cittare In questo modo Aspettate Però Ragazzi Cittaria Ora Possiamo Mettere I blocchi No Ora Ora Possiamo Mettere E Possiamo Cittare Che fa Aspettate Un attimo Ragazzi Aspettate Che Dobbiamo Cittare Perché Non Satti Cioè Voi Sapete Fare Di sicuro Non è Io Qui Il nabbo Che Non Gli Sa Fare I Drobber Ok Ragazzi In realtà Mi sono Di fatto Cittare Le cose Più Difficili Bene Sono pure Scemo Che bello Ok E però Buggiamo Minecraft No Ragazzi Avete visto Quanto Buggiamo Minecraft No Spettato Un attimo Facciamo Un po' Lo sprint Più No Ragazzi Come dovrei fare Io Non sono Un pro Perché Sono infatti Un nabbo Io Io come Dovrei 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 Sprintare A A A A A A A A A Almeno Sappiamo Dove L'acqua Pensiamola Al lato Positivo Ragazzi No Aspettate Ragazzi Non ditemi Che lo Dobbiamo Prendere Da Qua Non Ditemi Che Lo Dobbiamo Prendere Da Qua Che Ne Dite Ragazzi Se Lo Prendiamo Proviamo Da Qua Intanto Prima Cosa Aspettate Ma Di Un Buco Un Attimo Che Ho Visto Un Buco Strano Viste Vabbè Non È Nulla Di Che Credo Non So Se Ci Pu Servire Minimamente Ripeto Anche Maledissimo Devo Saltare Sul Melone È Il Nostro Obiettivo Di Oggi Ragazzi Salute Fare Su Quel Melone No Siamo Fatta L'ho Poi Dito Che Per No C'è Mi Sono Scusi Dato Ok Ragazzi Ce L'ho Fatta Rompiamo Qua Anche Sopra Perché Se No Non Possiamo Saltare E L'ha Avanti Per Inutare E Proviamoci Nulla Di Che No Vabbè Nulla Di Che Non Lo Dice Lo Dico Qualcun Altro Wow Wow No Vabbè Ragazzi La cosa Che è Semplice Andare Grande Qua Almeno Questo Dai Non Voglio Città Ho Vogliato Minecraft Esisto Non Ho Preso Danno Non Ho Cittato Ragazzi Non Ditemi Che Forse Sia Ce L'ho Fatta Ragazzi Non So Come Sei Stato Teletrasportato Presso Meno 122 Punto 50 8 Punto 00 23 Punto 50 Di Quelli Che Sono Un Po Tempo Circa Capisco Capisco Io Capisco Sono Quelli Circa Tempo Che Si Deve Sono In Alto Tipo Tipo No Però Non So Fare Le cose A Tempo Non So Fare No Troppo Normali Ok Che Non Sono A Tempo Però Figuratevi Questi Guarda No Ragazzi Mi Dispiace Devo Citare Perché Si Non Ce La Posso Fare Rompiamo Anche La Mappa Perché Si Ragazzi Citiamo Il Tutto E Ce L'abbiamo Fatta Siamo Bravissimi Si Lo So Ragazzi Mettiamoci Anche In Sopravvivenza Così Credi Che Ci Abbiamo Fatta Sei Stato Teletrasportato Presso Meno 168 Punto 50 248 Punto 00 16 Punto 50 Virgola Disiste Hardest Level Complete Random Of Stacles Enda Totale Top 250 Blots Disiste Un'ottica Circa Avete Visto Perché Urru Si Facciamo Così Ancora Di Più Però È Difficile Ragazzi Non Non è Facile Devo Anche Trovare L'acqua Io Spero Che almeno Tutto Il fondo Si è D'acqua No Ragazzi Non è Tutto D'acqua E Dove Dove Fai A Trovarla Io Sono Una Persona Normale Non Sono Un Pro Vabbè V Ragazzi 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 Di qua Di qua Di qua Di qua E Dove L'acqua Ragazzi Dove L'acqua Dittemi Dove L'acqua Vado Fuoco Prendo Danno Non è Che Devo Far Parcure No Mi sa Di No Ragazzi Quelli Sono Slime No Sono Nanna Di Sto Colore Credevo Che Erano Slime Block Ragazzi No Ragazzi Sono Un Un Nabbo È Alco 250 Blocchi L'ho Letto Proprio Ora Ragazzi Dove L'acqua Non La Vedo Virgola Diviste Hardest Level Complete Random Of Stat Lesenda Totale L'Etof 250 Blocks Subito Li Commenti Ragazzi Perché Io Sono Un Nabbo Totale Aiuto Guardatemi Quando Sono Nabbo Ne Dropper Ce La Possiamo Fare Sì Però Non Ho Detto Che Ce Possiamo Fare Senza Cittare Quindi Ho Ragione Sì Vedete Ma Ho Semplicemente Fatto Che Posso Anche A Prendere I Blocchi Ma Non Prendo Danno Perché Sì Qua No 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 Tanto Mi Mette In Sopravvivenza Ma Ora Mi Dove Spiegare Io Come Dove Fare Intanto Con Tutti Sti Blocchi Sopravvivenza Prendere Sopravvivenza Blocco D'acqua Con Le Shaders Io Me Ne Vado Stacco Un Questo Cartello Perché Sì Non Me L'hanno Dato Non Chiedetemi Perché Andiamo Sei stato Teletrasportato Presso Meno 172.50 11.00 Meno 52.50 La tua modalità di gioco è stata aggiornata a creativa Io ho fatto molte cose in creative mod però Stessa cosa Oh figo E abbiamo finito ragazzi No Non Play Again Sì Grazie Guardate Anche quanto ha costruito Sto tizio Vabbè Comunque ragazzi Vi finisce qui Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Mettete un bel mi piace Se il video vi è piaciuto E Da me I dropper E io che sono un nabbo Ciao ragazzi Ora però Devo riuscire a fare sto dropper Perché se no mi arrabbio